Interferenze radio-radio tandem, allora siamo al momento della nostra intervista. Oggi abbiamo in studio delle persone del cerchio, sono Elisabeth Calegari, Daniela Colucci e Valentina Condini. Ci presentano un loro progetto, si chiama Siblings, giusto? Sì, giusto. Siblings percorso rivolto a fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con autismo. Siblings, cosa vuol dire? Allora, la parola Siblings sta a identificare i fratelli e le sorelle, quindi è una parola unica che in realtà in italiano non esiste, mentre in tedesco si dice Geschwister, in inglese Siblings, in italiano appunto sta a racchiudere sia i fratelli che le sorelle. Quindi ci sono tutti i figli praticamente. Esatto. Bene, allora voi siete del cerchio, facciamo una piccola presentazione del cerchio per chi non lo conosce, si è già venuti una volta come associazione, come ospiti, però rispolveriamo un pochino. Sì, allora, l'associazione in cerchio è un centro specialistico che si occupa di disturbi dello spettro autistico. Abbiamo in carico persone dai 0 ai anche 30-40 anni, quindi non c'è limite d'età, tutti possono avere accesso grazie alla convenzione con la sanità. facciamo terapie diciamo a 360 gradi, quindi la terapia in ambulatorio da noi, andiamo anche a scuola facendo dei progetti o comunque delle consulenze scolastiche, facciamo anche delle domiciliari, quindi anche per sostenere la famiglia nel loro ambiente di vita e poi proponiamo diversi progetti come in questo caso il progetto Siblings per i fratelli e le sorelle e come gli altri progetti che hanno portato le nostre colleghe ai due incontri precedenti. Perciò proprio riferite all'autismo, specializzate in questo. Esatto. Allora, è il caso forse anche per noi e per chi ci ascolta a casa di dare una piccola definizione di autismo, una cosa molto semplice, però spesso ne sentiamo parlare, ma in concreto di cosa si tratta? Beh, continuo io. Allora, l'autismo è un disturbo del neurosviluppo, quindi c'è fin dalla nascita, però non si parla di malattia, si parla di condizione, è una neurodiversità. Come ha portato un bellissimo esempio la mia collega la volta scorsa, dicendo che l'autismo è come un arcobaleno. Come tutte le altre persone ci sono diversi colori ma anche le sfumature. Diciamo che ciò che accomuna le persone con l'autismo sono le difficoltà soprattutto per quanto riguarda le interazioni sociali e la comunicazione e gli interessi ristretti delle stereotipie. Quindi questo è un po' il quadro che li racchiude, però come tutte le altre persone hanno poi delle differenze, delle caratteristiche che li rendono tutti unici. Come tutte le persone alla fine. Esatto, esatto. Allora avete già detto che parliamo dei fratelli, in questo caso dei bambini o ragazzi che soffrono di autismo. Già questo mi ha colpito perché è difficile trovare un progetto non rivolto direttamente al protagonista, ma a quelli che sono comunque protagonisti ma tante volte vengono anche un po' non sottovalutati, però viene dato per scontato che stiano bene, che funzionino bene e che diano tutto il supporto necessario. In questo caso invece voi vi siete accorti che c'è bisogno di un qualcosa anche per loro. In particolare cosa vivono i ragazzi fratelli di che soffrono, cioè i ragazzi fratelli di che soffrono di un disturbo autistico? Allora, non si può dare una definizione unica, una risposta unica perché ogni fratello vive la sua particolare esperienza. Ci sono diverse variabili che possono influire sul modo in cui la persona, il fratello, il siblings in questo caso, può rispondere rispetto proprio alla relazione con il fratello. Ci sono variabili personali, per esempio il carattere, il proprio carattere, le proprie risorse personali, la propria resilienza, l'età. Ci sono aspetti che riguardano la famiglia, quindi per esempio lo stile genitoriale, come i diversi membri della famiglia hanno in qualche modo elaborato e come hanno reagito anche alla disabilità. Ci sono aspetti che riguardano anche il contesto sociale, per esempio anche la comunità, diciamo in qualche modo qual è la cultura della comunità rispetto alla disabilità e in quanto questa possa sostenere anche appunto la famiglia che al proprio interno ha una persona con autismo, dipende anche dalle caratteristiche del fratello, come ha il suo funzionamento, quali sono i suoi comportamenti, il suo grado di autonomia e in qualche modo anche dalla particolare alchimia tra i due fratelli, insomma, qual è la qualità del rapporto tra loro. Quali sono le emozioni che voi vedete nella vostra esperienza dei fratelli, nel senso di come la vivono questa situazione, che sensibilità anche si sviluppano? Allora, ovviamente come abbiamo detto, poi è un'esperienza unica, sicuramente ci sono dei temi che abbiamo visto nella nostra, insomma, anche se breve esperienza a ritornare, da una parte ci sono delle emozioni, diciamo, sensazioni che possono essere apparentemente negative, quindi per esempio l'imbarazzo, può succedere che in qualche modo il fratello risponga alla famiglia o a delle situazioni di disagio, con dei comportamenti messi in atto, quindi ci può essere proprio questo vissuto di imbarazzo rispetto a mostrarsi in giro con il proprio fratello, ci può essere anche una sorta di rabbia anche verso i genitori, perché magari si vede che i genitori sono troppo impegnati a dare attenzione all'altro fratello, tutte le energie sono in qualche modo concentrate là e si ha la percezione quasi di essere meno visti personalmente, ci può essere anche una sorta di senso di colpa, proprio perché si prova in qualche modo rabbia o gelosia o vergogna verso il proprio fratello che in realtà magari, insomma, a cui si vuole sicuramente anche bene e che comunque è in una condizione diciamo di fragilità. E ecco, tanti ragazzi e bambini possono vivere anche una sorta di sensazione di solitudine, perché non sempre riescono anche ad avere una rete amicale capace di in qualche modo accettare anche il... Questo anche i fratelli? Sì. Ok, che anche i fratelli vengono praticamente un po' esclusi, perché tutto è concentrato sul ragazzino che ha problemi e a suo modo anche loro vengono assorbiti da questa situazione e gli altri bambini li evitano. Può succedere magari che non sarà la difficoltà di invitare gli amichetti a casa, perché magari insomma il fratello quel giorno non sta bene o perché te temono che magari possa mettervi in una situazione di, per esempio, imbarazzo. A voi viene in mente qualcos'altro? Sì, mi viene in mente anche l'esempio di una bambina che è all'elementari, mentre il suo fratello con autismo ha le scuole medie e condividono però lo stesso cortile. E lei ci ha proprio portato questa esperienza di altri bambini che sono andati a dirle tuo fratello è uno strano, tuo fratello è matto e quindi chiaramente anche lei sentendosi dire queste cose tendeva un po' a tirarsi anche indietro. Come le ha aiutate in una condizione del genere, una situazione del genere, che tipo di intervento si può fare? Allora, quello che secondo noi è molto importante innanzitutto è fornire ai fratelli un sostegno. Ovviamente il sostegno cambia in base anche all'età del siblings, in qualche modo. Essere fratelli di una persona con disabilità comporta una serie di studi che possono essere diverse anche in base all'età. Per esempio per un bambino piccolo potrebbe essere rendersi conto che il proprio fratello è diverso rispetto alla maggior alta degli altri bambini o cercare di capire qual è il modo giusto di giocare con lui. Per un adulto invece potrebbe essere cercare di capire qual è il modo giusto di integrare il proprio bisogno di autorealizzazione adulta con anche le necessità del fratello. Una volta che poi anche magari i genitori non possono più in qualche modo gestire, perché sono magari diventati anziani o perché non ci sono più da soli, insomma il fratello con disabilità, il figlio con disabilità. Quindi sicuramente la cosa importante è fornire un sostegno a tutta la famiglia e nello specifico in questo caso ci siamo occupati appunto dei fratelli e aiutarli in qualche modo a innanzitutto confrontarsi con altre persone, con altri coetanei soprattutto che in qualche modo hanno lo stesso terreno comune, hanno avuto, vivono le loro esperienze e quindi in qualche modo si sentono anche quasi più compresi. Dall'altra parte dare anche loro la possibilità di poter esprimere anche le emozioni negative che solitamente c'è ancora un po' la paura di esprimere, per essere paura di essere anche giudicati negativamente e a questo anche tanti genitori fanno fatica ad accettare che il figlio sano in qualche modo esprima vissuti di rabbia o di gelosia verso il fratello con disabilità. In realtà quello che noi pensiamo sia importante è che anche queste emozioni vengano regittimate. in modo da dare l'opportunità anche a questo rapporto di crescere in modo limpido, in qualche modo, no? Cioè io ti voglio bene perché sei mio fratello e non perché sei fragile o perché sei diverso, ma perché sei tu, no? Come tutte le relazioni fraterne. E l'altra cosa importante è anche dare loro conoscenze perché tante volte le difficoltà di questi fratelli derivano anche dal fatto che non conoscono per esempio bene che cos'è l'autismo e quindi fanno anche fatica a leggere certi comportamenti del loro fratello e li interpretano magari negativamente. Soprattutto insomma nell'autismo dove c'è anche una certa difficoltà a esprimere le emozioni e a comprendere le emozioni dell'altro, a volte ci sono proprio delle incomprensioni quindi quello che cerchiamo di dare noi sono anche appunto delle strategie e degli strumenti condescettivi. quindi un po' la normalità nella diversità insomma di accettare quello che si vive come anche una condizione normale anche si può dire insomma di accettare quel momento lì, quel modo di vivere. l'imbarazzo va via con il vostro aiuto e poi l'imbarazzo che hanno anche i fratelli nei loro confronti va via poi anche perché quello poi non è solo una cosa loro ma è anche al di fuori no? per lo stigma che c'è anche al di fuori perché non si ha conoscenza di queste cose. Esatto, quello che pensiamo sia importante è anche quello che si diffonda una cultura della diversità in qualche modo no? E quello che cerchiamo anche di fare noi con delle giornate anche di sensibilizzazione è quello di diffondere un po' di cultura sull'autismo in modo che anche la comunità sia sempre più pronta a sostenere le famiglie, le persone con disabilità o con tutte le diversità insomma che ci possono essere. Sì comunque appunto da fratello poi cambia ad alcuni soprattutto crescendo maturando questo senso di imbarazzo piano piano magari può andar via ad altri permane ma come diceva Daniela già il fatto di essere più informati di sapere di cosa si tratta e magari del perché il fratello o la sorella mettono in atto certi comportamenti che possono a volte sembrare bizzarri già il sapere del motivo magari aiuta anche a comprenderlo. Quindi del potenziato. Certo. Bene, bene. Allora facciamo una piccola pausa musicale intanto vi ringraziamo già da ora per le prime insomma delucidazioni sull'argomento e vi aspettiamo dopo il brano musicale ancora interferenze in radio e radio tandem. Interferenze in radio e radio tandem stiamo parlando ancora di autismo col progetto siblings del cerchio che è un percorso rivolto ai fratelli o dei bambini o ragazzi che soffrono di autismo. Abbiamo qui in studio con noi Elisabeth Callegari, Daniela Colucci e Valentina Condini che ci hanno già fatto una bella introduzione. Allora a me ha colpito una cosa nel materiale che avevo guardato velocemente, quello che mi avevate mandato che dunque i fratelli di chi soffre di autismo cioè il fratellino o quel che è sviluppa ha una sensibilità un po' diversa, un po' maggiore rispetto agli altri bambini e probabilmente più attento a certi argomenti o forse un po' nervo scoperto come si può dire. Si sicuramente sono bambini che sono un po' spinti a diventare maturi un po' prima degli altri e poi non è detto che tutti riagiscono in questo modo, però abbiamo osservato che hanno spesso, sono anche un po' spinti a proteggere il proprio fratello e sono spesso preoccupati che magari possa succedere a loro qualcosa o a loro qualcosa e magari tendono ad essere iperadattati o perfezionisti, questo per non dare ulteriori preoccupazioni ai loro genitori o perché magari implicitamente viene loro richiesto di essere quelli bravi, quelli responsabili almeno tu magari cerca di fare qualcosa nella tua vita, sono proprio messaggi a volte impliciti non detti esplicitamente e quindi in qualche modo possono sentirsi di dover essere molto responsabili e voi volete aggiungere qualcosa? Si sicuramente che qualche volta scoppino, nel senso che non ce la fanno più, che abbiano delle reazioni magari poi come quando noi siamo sovraccaricati, anche reazioni che vanno oltre insomma col nervosismo, con la rabbia, con la fragilità magari, non so. Certo, tutto può succedere assolutamente, ecco perché è proprio importante sostenere la famiglia e soprattutto anche i genitori che devono essere pronti a gestire anche le dinamiche con tutti i figli. Posso fare io una domanda? Certo. Non mi sembra un po' esagerato diagnosticare in un bambino già l'autismo? Perché i bambini cioè vogliono giocare, divertirsi e già a quell'età diagnosticare una malattia cioè non è una cosa un po' troppo severa, ecco. Beh, allora, ci tengo solo a sottolineare che l'autismo comunque non è vista, cioè non è una malattia ma è una condizione della persona che porta con sé tutte le caratteristiche descritte prima. Quindi già da bambini si possono osservare queste peculiarità. Chiaramente prima si fa diagnosi e prima si può anche intraprendere un percorso di terapia e dare quindi maggiori, come dire, maggiori possibilità di raggiungere una vita autonoma o comunque soddisfacente, raggiungere la migliore qualità di vita possibile. Sì, ma io dico ai bambini piccoli non è meglio lasciarli giocare, non pensare a questi problemi. Magari poi quando diventa adulto che deve entrare nel mondo del lavoro allora magari si possono fare queste diagnosi. Loro stanno dicendo che questi bambini non stanno già bene quando sono molto piccoli. Almeno se l'ho capito bene. Esatto, sono in difficoltà già fin da piccoli. Questo non escludere il fatto che loro possano comunque giocare, anzi… Anzi, gli aiuta molto, vero? Sì, esatto. Anzi, anche noi poi al cerchio proponiamo anche dei progetti di tempo libero, dei programmi amicizia dove loro imparano anche a interagire in modo adeguato con i coetanei. Quindi sicuramente il fatto della diagnosi precoce fin da bimbi non va vista come una cosa negativa, anzi è molto positivo che venga presso la diagnosi in modo da intervenire e da poterli aiutare nel miglior modo possibile. E soprattutto, come noi abbiamo spesso parlato a interferenze in radio, non dobbiamo essere noi i primi stigmatizzanti. Vuol dire non dobbiamo essere noi i primi ad aver paura di affrontare un tema, ma di vederlo in faccia, di affrontarlo e vivere il meglio possibile con quel tema lì. Nel senso che si può vivere molto bene, comunque ci sono personaggi anche famosi che hanno sofferto di autismo e di problematiche psichiatriche. Quindi ci si può convivere, si può sempre migliorare, ma come in tutte le situazioni della vita. Assolutamente. Certo, il nostro scopo ovviamente non è quello di dare un'etichetta o un bollo, ma quello di capire qual è il funzionamento della persona. Noi lavoriamo tantissimo con il gioco, noi facciamo la terapia attraverso il gioco, che è una delle motivazioni principali dei bambini. Quindi attraverso il gioco cerchiamo di insegnarli delle competenze e delle abilità sociali. C'è sempre il divertimento, è la base del nostro lavoro. Un bello strumento, il divertimento. Sì, anche i trattamenti che vengono fatti con i bambini molto piccoli sono proprio tarati sulle loro abilità e anche sui loro interessi. Si cerca tanto un po' di sfruttare i loro interessi, anche ristretti magari per determinate categorie e portarli un po' dalla nostra parte, favorendo così lo sviluppo di determinati obiettivi, come per esempio le autonomie, la motricità, tutte le aree relative al progetto specifico del bambino in questione. Allora, adesso ci siamo andati molto intorno, però è il vostro progetto. Adesso vogliamo sentire proprio concretamente quali sono gli interventi che vengono fatti con i fratelli dei bambini che soffrono di autismo. Perché, da come avevo letto, avete strutturato molto bene questo tipo di incontri con vari temi. Ce li volete spiegare? Esatto, allora noi abbiamo realizzato due edizioni di questo progetto rivolto ai fratelli, uno nel 2017 e uno nel 2018. La durata è stata di sei mesi, da giugno a novembre e la cadenza degli incontri è stata mensile, una volta al mese per circa due ore. Dato la buona adesione dei fratelli, abbiamo deciso di suddividerli in due gruppi, a seconda della fascia di età. Abbiamo creato un gruppo di fratelli che abbiamo chiamato più piccoli, cioè di bambini in età scolare che vanno dai sette ai nove anni e un gruppo invece di adulti o giovani adulti dai venti ai ventisei anni. In questo progetto abbiamo anche appositamente voluto coinvolgere anche i genitori. In particolare i genitori sono stati coinvolti nel primo incontro, nel primissimo incontro del ciclo di questo progetto e nell'ultimo incontro, proprio per favorire anche uno spazio di condivisione e riflessioni dei genitori relativamente ai bisogni, ai desideri e le aspettative del proprio figlio a sviluppo tipico. Per quanto riguarda le attività che abbiamo proposto, sono state delle attività diversificate a seconda dei gruppi. Nel gruppo dei bambini piccoli della fascia di età dai sette ai nove anni sono state proposte prevalentemente delle attività ludiche e ricreative in modo da suscitare anche il loro interesse e la motivazione a far parte di questo progetto. Nello specifico è stato utilizzato un libro dove è stata letta insieme la storia di una bambina che nasce e poi nel tempo si scopre che ha una disabilità. Da qui sono nate le riflessioni. Per quanto riguarda invece il gruppo dei grandi e dei giovani adulti, quindi una fascia di età più in là, che va appunto dai 20 ai 26 anni, abbiamo preso spunto da dei film e da delle serie televisive. Una serie televisiva che abbiamo utilizzato e che è stata molto utile è stata questa serie che si chiama Atypical. Non so se la conoscete. No, ma se ce la descrivo anche. Sì, è una serie molto bella che vi consiglio, si trova su Netflix e parla di un ragazzino adolescente ad alto funzionamento, quella che una volta si chiamava la sindrome di Asperger e ci sono diversi episodi dove si vedono le sue caratteristiche, un po' i suoi punti di forza, ma anche le sue debolezze nella quotidianità. Quindi si vedono per esempio le difficoltà di comunicazione, di relazione che ha con la sua prima fidanzatina, le difficoltà che ha a stare nel gruppo della classe. Dall'altra parte si vedono anche un po' quelli che sono i suoi punti di forza. Per esempio questo ragazzo ha un interesse molto particolare, ristretto, approfondito per le scienze e quindi si vede come lui nel suo tempo libero studia tantissimo attraverso internet, fa delle ricerche sugli animali, in particolare sui pinguini che gli piacciono tanto. Ecco, ve lo consiglio quando avete tempo. Grazie del consiglio. Sì, è molto interessante perché non solo si capisce qual è il funzionamento del ragazzo del protagonista, ma emergono anche le dinamiche familiari. Lui ha una sorella, quindi si vede quali sono anche le relazioni con la sorella, le problematiche, ma anche le risorse, i vissuti della sorella e anche come l'intero sistema familiare in qualche modo deve adattarsi continuamente alle esigenze di entrambi i figli. Esatto. E può essere anche un po' scompussonato, insomma, in questo percorso. Esatto. Quindi la consigliamo tantissimo a chi vuole un po'. Ce la segniamo, che magari può servire anche a noi in qualche momento anche di guardarla insieme, insomma, possiamo guardarla, commentarla, vedere un po'. E poi è divertente. È molto divertente, sì. Sì, sì, la ridere. Esatto. Benissimo. I vostri incontri che fate con i fratelli hanno un numero specifico oppure sono 4, 5, 10? Sono strutturati in qualche modo? Sì, noi avevamo pensato fino dall'inizio, da quando avevamo creato questo progetto, di strutturare questo progetto in sei mesi di tempo. In realtà, una volta che è stato terminato al termine di questi sei mesi, i genitori, ma anche i bambini stessi o i ragazzi, ci hanno tutti un po' manifestato la volontà di continuare questo percorso, nel senso che si sono creati due gruppi molto affiatati, sia nei piccolini che nei grandi. Quindi un po' quello che miriamo per il futuro, appena riusciamo ad avere le risorse organizzative, è di comunque portare avanti questo progetto con questi partecipanti, con questi due gruppi. Bello che sia così piaciuto, no? Anche perché a volte fai fatica ad agganciare i familiari, invece in questo caso sono proprio loro che richiedono di continuare. Questo è un bel senso, vuol dire che avete lavorato proprio bene. Voi stai a chiedere una cosa? No, io praticamente su quella serie lì, no? Io ho vissuto una storia simile, perché un mio compagno di classe in elementare era autistico, e aveva una sorella gemella, no? E allora era molto potativa con lui. Noi l'abbiamo sempre integrato un po', no? Per lui era una cosa normale. E' una bella testimonianza. E' anche l'abitudine, no? La normalità di trovarsi insieme e poi accetti tutte le differenze. Certo. Volevo agganciare un po' la questione di essere riusciti a coinvolgere così bene le famiglie, dicendo che nel primo e nell'ultimo incontro era presente il dottor Bert P. Schall, che è un ortopedagogista, quindi un pedagogista che si occupa di situazioni educative, un po' problematiche, difficili. Esatto, un po' difficili. Lui è specializzato proprio in autismo e lui stesso è fratello di due ragazzi con autismo. E quindi il fatto che lui abbia portato la sua testimonianza diretta alle famiglie ha sicuramente coinvolto maggiormente i genitori. Chiaramente diverso è se noi facciamo una presentazione sui fratelli senza essere direttamente coinvolte, ha una valenza diversa. Mentre lui è stato fondamentale per partire con questo progetto e c'ha anche supervisionate via via perché lui già da tanto che fa questo tipo di percorsi con i fratelli e le sorelle. Quindi proprio un'esperienza diretta, poi studiata attraverso la scienza, riportata a voi. Meglio di così. Esatto. No, no, benissimo. Allora, magari forse un'ultima domanda. L'abbiamo già affrontato, però la normalità di esprimere le proprie emozioni, di arrabbiarsi, di vergognarsi, ma senza vergognarsi poi alla fine di provare queste emozioni come la vedete. O come si può dare anche un messaggio agli ascoltatori che magari vivono anche di situazioni del genere ma non hanno il coraggio o si nascondono o minimizzano perché tante volte si dice no, sono gli altri che dicono che è strano, non è, insomma stiamo bene così, però alla fine un problema viene coperto dalla sabbia. Cosa si può dire? Sicuramente uno dei nostri obiettivi principali è dare questo messaggio sia alle famiglie che ai siblings, ovvero che anche le emozioni negative bisogna esprimerle, non bisogna tenersene dentro e che è normale anche, come in una qualsiasi altra famiglia, arrabbiarsi col fratello, vergognarsi. In quante famiglie il fratello maggiore si vergogna quando c'è il fratellino piccolo e vengono gli amici a casa. Fa comunque parte della normalità della vita di tutte le persone. E quindi appunto un messaggio che noi vogliamo trasmettere alle famiglie è che è giusto anche esprimere queste emozioni negative, naturalmente in modo adeguato, senza esagerare, e anche far capire ai ragazzi che è un loro diritto esprimere e anche parlarne con i genitori. Allo stesso tempo dire ai genitori che anche far notare che anche i loro figli diciamo neurotipici provano queste emozioni e di essere accoglienti in questo, di ascoltarli. Io spesso consiglio di trovare magari durante la settimana anche solo un'ora dedicata al figlio neurotipico. Questo è il tuo momento di ascolto, tu qui mi puoi dire tutto quello che ti passa per la testa, tutti i tuoi problemi, le tue difficoltà. Io sono qui per te, anche se sono consapevole del fatto che tuo fratello e tua sorella richiedono più energie e più attenzione da parte mia. Questo sicuramente è un messaggio importante da dare. Dare importanza e dare forza a tutti. Bene, allora purtroppo il tempo stringe e staremo qua a parlare per tutto il pomeriggio, ma dobbiamo concludere l'intervista. Vi ringraziamo veramente di cuore per essere state qui con noi e vi invitiamo magari per un'altra puntata, magari continuando a portare qualche esperienza, qualche vostro vissuto anche. Grazie a voi. Vi ringraziamo veramente tanto e alla prossima. Grazie.